L'Egitto potrebbe presto svendere o quantomeno dare in concessione le sue meraviglie archeologiche per far fronte alla grave crisi economica con cui si confronta ormai da anni. È una voce che circola su internet da diversi mesi e ora una conferma arriva da Adel Abdel Sa'atar, segretario generale del Consiglio Supremo delle Antichità, che ha parlato di una proposta avanzata dal governo. Si tratterebbe di dare in concessione a soggetti stranieri, ad esempio a turo per etro, internazionali, alcuni gioielli di famiglia come le piramidi di Giza, la Sfinge, le aree templari di Abu Simbel e di Luxor. Secondo alcune indiscrezioni, il Katara, tra i primi sostenitori della rivolta contro l'ex Rais Mubarak, avrebbe già espresso il suo interesse a prendere in gestione i più importanti siti archeologici egiziani per un periodo minimo di cinque anni. La somma che l'Egitto riceverebbe in cambio sarebbe pari complessivamente a 200 miliardi di dollari sufficienti per pagare l'enorme debito nazionale e avviare progetti di rilancio dell'economia.